Cristina Cartavilla, 59enne, avrebbe scoperto che il marito Gabriele di 90 anni divorziò da lei in gran segreto quattro mesi dopo i nostri per difendere i suoi possedimenti. Sposata da ben vent'anni con un marito per l'appunto, quindi il buon Gabriele di 90 anni, l'anno avrebbe scoperto quindi di aver vissuto nella piena menzogna per ben due decenni di tempo, quindi vent'anni circa. L'uomo dopo le nostre che si sarebbero consumate nella Repubblica Dominicana, tornò nel paese per annullare le nostre pochi mesi dopo il matrimonio, per anni ha vissuto con la moglie mantenendo il segreto fino a quando è stata ricapitata una lettera strana a casa che ha consentito alla moglie di scoprire quello che era accaduto. Da come riporta il sale, adesso la donna ha deciso di procedere per via regali contro l'ex marito, avrebbe deciso che sarebbe reo di averla ingannata per diversi anni. La donna però si è sempre dedicata al marito, lo ha assistito nella malattia, avuto dei figli da lui, ha lasciato il lavoro da insegnante e da docente per aiutarlo nella gestione della casa. Questo sarebbe quanto, se in tale video fossero presi in scuso in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto è escluso di me e eventuale responsabilità di qualsiasi vuoi natura. Grazie e un saluto a voi tutti. Grazie. 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 Grazie.